Si riunirà mercoledì a partire dalle 16, nuovo Consiglio Provinciale d'Imperi eletto lo scorso 11 maggio. La seduta sarà interamente dedicata alla convalida degli eletti al giuramento del neopresidente Domenico Abbo. La composizione del Consiglio nasce dalla presentazione di una sola candidatura alla Presidenza e di una sola lista di candidati consiglieri, tutti eletti. Siederanno quindi nella sala consigliare della provincia, oltre al Presidente Domenico Abbo, Sindaco di Lucinasco, Marina Vegno, Consigliere Comunale e Vice Sindaco di San Lorenzo al Mare, Marzia Baldassarre, Consigliere di Bordighera, Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo, Patrizia Biancheri, Consigliere di Vallecrosia, Mario Cogno, Sindaco di Taggia, Luigino Dell'Erba, Sindaco di Aurigo, Giorgio Giuffra, Sindaco di Rivaligure, Enrico Ioculano, Sindaco di Ventimiglia, Franca Saluzzo, Consigliere di Vasia e Claudio Scaiola, Sindaco di Imperia.